Noi siamo consapevoli della nostra forza, sappiamo quello che ci chiede il mister e lo facciamo anche molto bene, dobbiamo continuare a lavorare perché io e tutti i miei compagni e il mister crediamo in questo progetto, crediamo in quello che facciamo e sono sicuro che se continuiamo così ci prendiamo grande soddisfazione. Io credo che oggi magari dovevamo iniziare a farci conoscere anche dal pubblico di Reggio Emilia, riportare ancora di più entusiasmo perché questa è una grande piazza e sono sicuro che se i tifosi saranno con noi e ci porteranno ancora più entusiasmo, nonostante stasera sia stata veramente una bella serata, sono sicuro che possiamo ancora fare di più insieme e possiamo toglierci, veramente soddisfazione importante. Io ancora le prime partite non stavo, dico la verità, non stavo ancora a torno perché il mio fisico comunque veniva anche da una preparazione che avevo fatto a cosenza, diciamo con più fondo e venendo qua a Reggio ho ricambiato totalmente lavoro, comunque il mister era tutto più sulla palla, più così, quindi anche fisicamente magari è per trasformare, visto anche il mio fisico ci ho messo un po' di più, però adesso inizio a stare bene e quando sto bene mi diverto anche.